di buocano veramente infimo cosa mi invito quest'anno per il brano di natale ma chi sarà quest'oro ma c'è un pacco ma chi l'ha lasciato quest'oro cosa ci sta dentro ah vediamo cosa c'è questo pacco non mi sembra un regalo di natale è il tuo prezzo per natale questo non è un cliente che si messa avanti con una spedizione adesso apriamo vediamo cosa c'è sono proprio curioso ah giusto aspettate eh adesso si anche quest'anno Ruttofili ho bisogno di voi per il brano di natale che sarà una bomba allucinante ci saranno collaborazioni e le sorprese non mancheranno comunque anche quest'anno ho bisogno dei vostri rutti assolutamente ma prima di cominciare ricordo sempre se volete farvi il regalo di natale a Rut Misterio ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati se non evitare quindi mi raccomando fate un regalo a Rut Misterio quest'anno iscrivetevi al canale quest'anno i video devono essere in orizzontale e alla massima risoluzione possibile se volete partecipare dovete fare un video in questo modo facendo quattro cose numero uno siccome il brano sarà in burr metal dovete indossare questo cappello e scapucciare in questo modo facendo headbanging così numero due dovete battere le mani al secondo clic cioè alla seconda battuta avete capito? numero tre bervi una birra possibilmente da un grande boccale senza far vedere ovviamente la marca non facciamo pubblicità senza essere pagati numero quattro cosa manca all'appello tirare un rutto gigantesco il camera col bicchiere vuoto di fianco dovete mandarmi i video alla mail che vedete qui in sovraimpressione a rutti a rutmisterio piocciera gmail.com non oltre il 15 dicembre ruttofili aspetti i vostri video con i rutti e mi raccomando al contrario di cosa dice l'unione europea vi auguro ovvia militare buon natale buon natale adesso ti brucio barba di merda se volete partecipare alla se volete partecipare alla ok dovete fare headbanging scappucciando scappellando siccome il brano sarà una merda al contrario come dice l'unione europea sai come? sono un po' grazie